Il Cerignola si assicura a Cristian Agnelli, ancora un colpo per la società del presidente Danilo IV che nelle scorse ore ha definito l'arrivo del centrocampista ex Foggia in Mediana. Non ha bisogno di presentazioni Agnelli, che è nato a Foggia e quindi ha colto al volo l'occasione di riavvicinarsi a casa. Classe 85-36 anni, ma ancora integro fisicamente. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Messina, ma nel suo passato c'è una lunga militanza con la casacca del Foggia. Da capitano infatti ha ottenuto la promozione in Serie B e ha collezionato oltre 150 presenze con i satanelli. Ma non solo, Barletta, Lecce, Benevento, Salernitana e Juve Stavia nel suo curriculum. Insomma, un arrivo di spessore che si unirà già nelle prossime ore al gruppo di Michele Pazienza. Il Bitonto invece è pronto a riaccogliere Savio Pearulli, classe 2001, per completare il pacchetto under. Le operazioni over invece sono ormai concluse per la formazione di Claudio De Luca. Mentre il Bicelli ha ufficializzato l'ex Andrea Roberto Farino, la classe 2001, che rinforza la mediana di mister Danilo Rufini. Ufficialità in casa gravina con Moudou Diop, che rinforza l'attacco di Gelo Blu. Meno tre settimane all'esordio in questi giorni. Infatti verranno anche diramati i calendari con il girone H, che dovrebbe essere a 20 squadre. Meno tre settimane all'esordio in questa giornata. Meno tre settimane all'esordio in questa giornata.